salve a tutti i pescatori e benvenuti in questo video diverso dal solito abbastanza sì dopo una giornata passata sulla sieve con zero risultati zero proprio zero anche un negozio di pesca del posto ha detto che erano un paio di giorni che non si muoveva nulla a parte ogni qualche qualche casetto sporiadico ma niente di che invece questo video come avete potuto leggere dal titolo riguarda un'immissione di trote nella zrs di capodarno avete già stati avete conosciuto in un nostro video scorso e ora siamo qui mancano cinque minuti al ritrovo e niente io direi ci vediamo direttamente sul fiume o insomma c'è qualcosa iscriviti al canale 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 Vai Sono maschio Sì L'ultimo pesce No, penultimo Va bene Ultimo Ultimo Piscina, piscina Non meno che battiva delle altre Vai Che sta facendo? Vai, prendiamo da mano Questa è un po' rovinata Tu ce l'ho sotto ai piedi Questa è un po' rovinata Grazie.